Buonasera e bentornati alle delizie di Daniela. Questa sera continueremo con quelle che sono le paste vintage che Daniela mi ha voluto dedicare in occasione del mio genetliaco, che non è oggi ma la scorsa settimana, ma si continua perché le pastarelle sono tante. Buonasera Daniela, allora cosa ci preparerai questa sera? Buonasera e ancora auguri, perché vedi anche stasera dedicato a te, parte seconda, i dolci ricordi di Mirna. Quindi che cosa faremo? Stasera faremo le deliziose, che so che ti piacciono molto, e anche da casa secondo me è un dolce che piace, e poi faremo anche i famosi diplomatici o zuppette, come le chiamano a Napoli. E sono proprio quelle pastarelle napoletane tradizionali che ancora sono presenti nelle pasticcerie. Prima di cominciare, difficoltà di queste due ricette? No, guarda, sono due ricette semplici. Le semplificheremo al massimo, perché noi abbiamo sempre detto che da casa devono essere fattibili, altrimenti è inutile fare delle ricette dove nessuno ci segue. Noi le facciamo perché loro poi le devono rifare, devono essere buone, e quindi una volta che insomma abbiamo capito che tutto va bene, le proponiamo ai nostri amici da casa. Quindi stasera difficoltà media, per più che altro ci sono dei passaggi da fare. Quelli più difficoltosi ho cercato di semplificarteli al massimo. Quindi ci prepariamo a realizzare quelle che sono le deliziose, a realizzare ci pensa lei. Io vi posso solamente dire che la deliziosa è considerata la regina delle pastarelle della domenica, cioè quello che è il bocconcino più prelibato quando arriva il plateau di paste. Sì, perché c'è una presenza di burro notevole, quindi chiaramente è un dolce ricco, perché c'è burro sia nella parte biscottata, quindi nei due biscotti che andremo a realizzare, e sia all'interno, perché all'interno c'è proprio una crema al burro, e poi le nocciole, insomma, quindi non è un dolce semplice, ma un dolce ricco. Allora, andiamo a creare questa pasta per il biscotto. Cominciamo con 125 g di farina doppio zero, sempre un pizzichino di sale, perché quello non deve mancare mai. Dopodiché ci andiamo a mettere invece 40 g di zucchero semolato, e cominciamo un po' a girare. Poi qui invece, per dare leggerezza, sai che cosa ci va? Il bicarbonato. Invece del lievito il bicarbonato. Esatto, una puntina di bicarbonato, questo dà un po' di leggerezza alla pasta, capito, di friabilità. Questa è proprio una ricetta antica, ti devo dire la verità, questa è una ricetta che ho, perché un'amica di mia madre me la diede tanti anni fa, io la conservo gelosamente. Allora, un uovo, ok, e andiamo a creare. A proposito di queste ricette, ci sono per esempio tante varianti di uno stesso dolce, e quindi spesso c'è la persona che è quella custode dell'autentica ricetta, e poi si tramanda in maniera anche piuttosto massonica. Sì, a volte si è anche molto gelosi delle proprie ricette, a volte è difficile poter ottenere delle ricette, però adesso ormai con internet si trova di tutto. Però chiaramente quelle collaudate sono ricette che ognuno cerca di tener caro, insomma. Allora, una bella grattugiata di limone, questa non deve mancare mai. Anche qui, volendo, in alternativa, si potrebbe mettere della vanillina, oppure ci si potrebbe mettere anche della vaniglia, insomma, quello che vi piace. Però io cerco sempre di mettere il limone, perché trovo che sia il sapore migliore. Dopodiché 50 grammi di burro fuso, ok? E andiamo a impastare. Questo, vedi, prima o poi un giorno te lo farò fare un impasto del genere. Eh, ma ci provi sempre, eh? Non demordi. Adesso non posso, diciamo, essere cattiva, perché queste sono le puntate dedicate ai miei dolci preferiti. Esatto. Allora, guarda, continuiamo a impastarlo. Dopodiché dobbiamo andare sul piano. Quindi andiamo a mettere un po' di farina, come sempre, e ce ne andiamo a trasferire qua. Anche questo è un impasto un po' sbricioloso. Quindi dobbiamo lavorarlo con un po' di accortenza, sempre con un po' di farina. Ci andiamo ad aiutare. Ecco. In realtà non sono altro che due dischi di pasta frolla, quelli che, diciamo, creano la deliziosa. Esatto. È una sorta di frolla, però una frolla molto delicata, vedi? Comunque è molto friabile. Perché, infatti, se ti ricordi bene, quando si addentano tendono un po' a rompersi, no? Velocemente. Allora, questa qua richiede invece un po' di riposo. Allora, noi la dobbiamo impastare sempre. Andiamo ad inglobare bene tutti gli ingredienti, tutte le nostre bricioline. Dopodiché, una volta che l'abbiamo impastata, la copriamo con una bella pellicola e la mettiamo in frigorifero a riposare, in modo tale che diamo il tempo al burro di ricompattarsi. Ecco qua. Allora, a questo punto, la andiamo a far riposare. Dopodiché, andremo a preparare i nostri biscottini. Ed ecco qua. Daniela ha pronto il mattarello e con questo sta stendendo la pasta. Quanto deve essere sottile? Abbastanza. Abbastanza sottile, ma non troppo. Perché poi non ci dimentichiamo che deve farcire, chiaramente. La dobbiamo farcire. Quindi, chiaramente, deve avere una sua consistenza. Altrimenti, poi, quando la andiamo, chiaramente, a mordere, si rompirebbe subito. Insomma, verrebbe tutto fuori. Allora, una volta fatto questo, dobbiamo dargli la classica forma rotonda. Ora possiamo scegliere il diametro, le possiamo fare più piccole, più grandi, a secondo dei gusti. Io ho preso un diametro medio, in modo tale che, comunque, secondo me, questa è una forma per una porzione. No? Ti pare? Allora, a questo punto, facciamo tutti questi bei dischetti in questo modo. Dopodiché, li andiamo a mettere su una teglia ricoperta di carta forno. E vanno in forno. Allora, chiaramente, 180 gradi. Qui, anche. Dipende da quanto le avete fatti grandi. Quindi, questa misura qui, diciamo che all'incirca 8-10 minuti sono sufficienti. Lasciateli, chiaramente, raffreddare sulla teglia. Non le toccate perché saranno molto delicati. Dopodiché, una volta raffreddati, li dobbiamo farcire. Quindi, adesso andiamo a vedere la farcia. E quindi, realizziamo quella che è la farcitura delle deliziose. Che, come tutti quanti sanno, coloro i quali l'hanno provata qualche volta nella vita, è a base di crema al burro. Esatto. Crema al burro, in questo caso 100 grammi di crema al burro e un paio di cucchiai di zucchero a velo. Però io ci aggiungo un'altra cosa. Ci aggiungo un po' di panna. Perché, ti devo dire, mi piace stemperarlo un po' questo burro. Ed è la semplice panna fresca montata. Chiaramente, secondo me, dà una consistenza migliore. E quindi, volendo, si potrebbe mettere anche della crema pasticcera, sai? Allora, vedi, comincio a frullare un po' il mio burro, che chiaramente deve essere già un pochino morbido, ma non troppo. E poi ci andiamo a mettere, come ti dicevo, un paio di cucchiai di zucchero a velo, perché lo dobbiamo chiaramente rendere più dolce. Dicevi, la crema pasticcera si mette al posto della crema al burro oppure si mescola insieme alla crema al burro? Allora, volendo, al posto della panna, potevamo metterci qualche cucchiaio di crema pasticcera. Allora, vedi, la crema al burro si è chiaramente ben amalgamata. Ecco qua. Resta sempre un pochino giallina, perché noi abbiamo usato un buon burro. Naturalmente, se utilizzavamo, perché capita che si utilizzi in pasticceria o a volte della margarina, abbiamo un colore diverso. Allora, in questo caso, che cosa succede? Adesso, ripuliamo la ciotola e ce l'andiamo a mettere in una sac a poche. I nostri biscotti sono stati infornati, si sono raffreddati, quindi secondo me possiamo passare alla farcia. Daniela si accinge adesso a far incontrare ai morbidi dischi di pasta frolla con la crema, a fare questo, diciamo, sposalizio. Come? Con una semplice sac a poche. Sì, esatto. In maniera molto semplice, vedi, andiamo a inglobare e andiamo anche a chiudere in questo modo. Schiacciamo leggermente, perché ci serve che fuoriesca un pochino, perché poi dobbiamo andarli a passare nella famosa granella di nocciole. Ti ricordi? Certo, quella è proprio la parte più sfiziosa di questo dolce, quella là che si addenta per prima. Tra l'altro, questo è un dolce che piace molto ai bimbi, quindi magari le signore da casa che si vogliono, diciamo, cimentare con questo tipo di pasticceria, possono anche utilizzarlo per una festa per i propri piccoli. Esatto, diciamo che è un dolce che ho un po' dimenticato, che noi per questo abbiamo riproposto, perché comunque, secondo me, è invece un dolce che merita, perché alla fine, insomma, è, avete visto, non tanto complesso nella sua preparazione, però sicuramente è buono. Quindi adesso io continuo a farne degli altri e poi passiamo alla ricetta successiva. E iniziamo con la seconda ricetta, che è? Zuppette o diplomatici, come si vuol dire, diciamo? Alla napoletana zuppette. Esatto, esatto. Sono chiaramente quei dolcetti simpatici quadrati, che a te piacciono tanto, e che sono praticamente composti da varie consistenze, perché abbiamo uno strato di pasta sfoglia, poi abbiamo del pan di spagna, che viene bagnato con una bagna al rum, al limoncello, insomma, o all'alchemers. Dopodiché abbiamo della crema diplomatica, che non è altro che una crema pasticcera con l'aggiunta di crema chantilly. Crema chantilly sarebbe la panna montata. Messa insieme ci crea questa crema diplomatica, che si chiama proprio così. Quindi si creano poi tutte queste stratificazioni e per ultimo lo zucchero a velo che non manca mai. Ecco qua, allora procediamo. Tu hai preparato già la pasta? Esatto, allora, come la volta scorsa, diciamo, per non complicarci l'esistenza, la pasta sfoglia usiamo quella congelata, quella fresca, che compriamo al supermercato. Volendo si potrebbe usare anche quella congelata, però noi usiamo la fresca che è migliore. Allora, io ho, vedi, questo righello che io uso per i dolci, perché noi dobbiamo crearci proprio la metà, diciamo, di questa pasta, perché la andiamo a dividere in due parti, ok? A questo punto che cosa facciamo? Ce ne andiamo giù e separiamo la pasta in questo modo. Per quello serve il righello, vedi? Va venire un po' in mente le lezioni di educazione tecnica delle scuole medie, quando si usava appunto il righello. Eh vabbè, però serve, serve perché dobbiamo essere precisi, perché poi queste due basi andranno sovrapposte, quindi è importante che si sovrappongano bene. Che cosa facciamo a questo punto poi? Con uno stuzzicadenti ce l'andiamo, però dal lato, diciamo, non appuntito, ce l'andiamo tutta a bucherellare. Perché questo? Perché la pasta sfoglia in cottura si gonfia e noi non vogliamo assolutamente che si gonfi. Dopodiché facciamo l'operazione che abbiamo fatto anche la volta scorsa. Pennelliamo con un po' di acqua e un po' di zucchero a velo e ce l'andiamo a mettere in forno. Forno preriscaldato a 180 gradi all'incirca 15 minuti. Chiaramente controlliamo che raggiunga un livello di doratura. Non deve essere né troppo scura né troppo chiara. Quindi io adesso me la preparo e la vado a infornare. Quindi la pasta sfoglia è stata sfornata, eccola qua, molto leggera e croccante. Esatto, vedi come viene sottile, insomma, e croccante. L'importante appunto è bucherellarla bene. Poi qui c'è invece nella sac a poche quella che ti dicevo la crema diplomatica, cioè crema pasticcera con aggiunta di crema chantilly, cioè di panna montata, per ottenere questa crema. Allora, che cosa facciamo? Ce la andiamo a mettere naturalmente sulla nostra, vedi qua? Una generosa dose di crema. Sì, 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 noi siamo sempre generosi, no? Nelle nostre dosi. Dopodiché, magari ce la spalmiamo anche un pochino con una spatola che è meglio. Dopodiché io ti dicevo che dobbiamo poi utilizzare un pan di spagna e io ce l'ho già pronto, l'ho preparato. E ce lo andiamo anche a ritagliare della stessa misura. In questo caso, poiché tutto è rettangolare, allora chiaramente ho usato, vedi, una teglia anche quadrata, in modo tale da riuscire a formarmi poi questo rettangolo di pan di spagna che vado a mettere. E naturalmente lo vado poi un po' a bagnare. Questa è una bagna al rum, ok? Lo dobbiamo bagnare bene, altrimenti che zuppetta hai, ti pare? Si chiama zuppetta. L'hai fatta al rum, ma si può fare anche non alcolica nel caso si vogliano realizzare dei dolci per i bimbi? Sì, magari basterebbe soltanto farla acqua e zucchero con l'aggiunta magari, che ne so, del limone, dell'arancia, le bucce, in modo tale che diventa aromatica e allo stesso tempo, insomma, però non alcolica. Dopo che avrai fatto quest'operazione si continua con la crema? Esatto, bravissima. Vedi come stai diventando brava? Non sono brava perché mangiavo la zuppetta, solo per questo. Eh lo so, è dedicata a te, quindi... Lo so bene. Quindi a questo punto un altro strato di crema, ci andiamo a mettere, vedi? Sempre generosa come piace a te, ok? Ecco qua. Utilizziamola tutta. Ce la andiamo a spalmare sempre un po' con la nostra spatola. Ecco qua. E poi, secondo te, che cosa facciamo? La ricopriamo con quest'altro strato. Quello che ti volevo chiedere, la crema che tu adesso stai, diciamo, distribuendo sulla superficie, deve andare vicino ai margini oppure bisogna mantenersi un po' dentro? Allora, guarda, io la metto un po' fino in fondo, perché poi il fatto che io dopo la devo, è vero, tagliare, però voglio dire, comunque è bello che troviamo un po' il ripino dappertutto, insomma, ti pare? Sì. Ecco qua. E ce l'andiamo a chiudere. Che ne dici? Questo è proprio un super zuppettone. Cioè, è proprio da Guinness dei primati. Potresti fare una di quelle gare, sai, che amano molto gli americani, la super zuppetta. Che fai adesso? Adesso viene la parte più complessa. Cioè, ce le dobbiamo andare a tagliare, perché se tu ben ricordi, i diplomatici sono dei quadratini. Allora, noi che cosa facciamo? Con molta delicatezza. Rifiliamo prima, in questo modo, vedi, una metà, e poi lentamente andiamo ad affondare il coltello. Mi raccomando, un coltello a sega, di quelli per il pane. Non quelli là, diciamo, lisci, perché non vanno bene. Perché poi diciamo che l'operazione potrebbe diventare una catastrofe nel momento in cui si spacca tutto. Esatto, esatto. Vedi? Dobbiamo andare bene in profondità, separarla, e poi ci dobbiamo andare a fare i nostri quadratini. Anche perché tanto lavoro fin qui effettuato, insomma, vanificarlo così per un colpo di coltello venuto male, non è il caso. No, assolutamente, assolutamente. Allora, vedi, andiamo a fare in questo modo. Dobbiamo creare, praticamente, vedi, un'incisione. Dopodiché, quando l'abbiamo creata l'incisione, andiamo ad affondare un po' con il nostro coltello. E verrà fuori il nostro quadratino. Ok? Va bene. Allora, mentre tu continui, noi ci fermiamo e poi, quando saranno state realizzate tutte le zuppette, torniamo a vedere cosa farai ancora. Ecco qua. Guardate che splendore. Tutto bianco, quindi stanno anche bene come tonalità. Vi invito a prepararle perché veramente sono ottime, daranno, diciamo, il vostro party, la vostra cena, quel tocco proprio di nostalgia vintage alla quale ci siamo ispirate io e Daniela, io come, diciamo, musa ispiratrice di questa ricetta. Daniela, ti ringrazio per avermi voluto mangiare con questi ottimi dolci. vedo che sono veramente usciti bene. Sì, guarda, devo dire la verità, sono buoni, avete visto, sono semplici. Un'idea in più volevo spenderla sui diplomatici perché volendo la bagna si potrebbe fare anche all'Alchemers e potrebbero essere riempiti anche con crema pasticcera e amarene. E questo ha anche, diciamo, un tocco in più e anche un colore diverso. E ha un suo perché. Quindi possiamo fare che la prossima settimana è ancora il mio compleanno. No, ora basta, ora stai esagerando. Guarda, io ho preparato anche un flute per brindare perché poi comunque col dolce ci vuole il suo prosecchino. Quindi prima di bere salutiamo da casa perché poi dopo, insomma, non... Faremo brill, eh? Noi brindiamo, io e Daniela brindiamo a tutti voi che ci seguite da tanti anni, seguite Daniela e le sue ottime ricette. Allora, buona serata a tutti. Vi aspetto sulla mia pagina Facebook ed Instagram, Le Delizie di Daniela. Mi raccomando, riprovate anche queste ricette perché vedrete che saranno sicuramente buone e piaceranno a tutti. Quindi, cin cin! Ciao! Ciao! Ciao!